Pijamax! Oh, oh, ci sono malvagi della notte in città! Ci faranno comodo dei rinforzi! Super fantastico! Armadillan è molto potente! Di notte distrugge ogni malvivente! Eh, il nostro matto non fa così! Risolviamo la situazione! Mettili giù, Romeo! Costringimi! Va bene, lo hai chiesto tu! Muscoli da super gioco! Padrone, aiutami per favore! Ottimo! Ma guarda questa mossa! La chiamo il mio pugno a terra! Non è giusto! Armadillan si è unito a voi! No! L'ascende Robert! Aiuto! Armadillan! Sì! Chi salverà la notte? Hai hai che male! Non avrei potuto distruggere la città in modo migliore! Chiamate i super pigiapulitori! Non ci provare, ninja della notte! Fiume di cucetta! No! Ed ecco il potere di Dilan! No! Boom! Come arma Dilan? Faccio parte della super pigiapattuglia! Questo lo prendo io! Gne, gne! Poveri super pigiamini! Il vostro nuovo aiutante vi sta rubando la scena! Saltiamo, ragazzi! Saltiamo fino... Alla luna! Hanno detto che con la luna si trasformano! Forse vogliono avvicinarsi alla luna per avere... Più poteri! Più pelliccia! Le mie zanne si allungheranno! La mia mente potrà... Pensare finalmente a più di una casa? Esatto! Più in alto! Più in alto! Super lupi! Super lupi? Loro sono già abbastanza cattivi! E se otterranno nuovi poteri? Non credo che accada questo ai lupi mannari! Tu che ne sai? Tu sei un gufo! Anche se non funziona... Distruggeranno comunque la gattomobile! Il problema non è solo la tua auto! Qui è a rischio tutta la città! Per tutti i baffipelini! So come riprendermi la gattomobile! Vediamoci alla base! Pigeo robot! Mostrami dove sono i lupetti! Pudududu! Gecko, per favore! Lancia questo! Va bene! Uno, due, tre... Ora! Muscoli da Super Gecko! Fa ruotare la base! Per tutte le ali! Pare che abbia funzionato! Ehi! Tu ci hai preso l'auto! È la mia auto! Ah sì? E come mai? Fino a poco fa la usavamo noi! Non ci vedo! Pensi ancora che lui sia buono? Ne sono sicura! Dov'è finito? Super Mossa a sorpresa da Tunnel! Armadilan! Non capisci! Romeo vuole che tu combatta contro di noi! È lui il cattivo! Ma si è comportato davvero amico con me per ora! Meno chiacchiere, montagna di muscoli! È ora di distruggere i super pigiamini e di conquistare la città! Un momento! Intendi dire di proteggere la città! Sottigliezzi! Fa quel che ti dico! Sono io la mente qui! Romeo rimarrà sempre un malvagio! Vuole solo che tu sia il suo aiutante forzuto! Ma sei tu il mio aiutante! Io? Il tuo aiutante? Mai! È per questo che ti sto usando! Voglio dire, ci aiutiamo a vicenda! Tu mi hai imbrogliato! Sei davvero un malvagio! Io non sono l'aiutante di nessuno! Sono Armadilan e sono un vero eroe! È finita, Romeo! Ehi! Che stai facendo? È l'ora della super rivincita dell'aiutante! Robot! Mi vuoi aiutare? Sì! Ci devo pensare un po'! Robot! Ragazzi, avete fatto la mossa giusta? Certo! Sei tu che hai fatto male la corsa! Riprovaci! Più veloce! Ferri! State indietro! Non riuscirete a fermarci! Chi ha detto che vogliamo fermarvi? Se volete andare sulla montagna, voi potete! Basta che non facciate niente di male! Come? Devi girarla! Potete andare! E ricordatevi che la montagna misteriosa è di tutti! No! È solo della nostra banda! Adesso è la montagna luposa! Prima io! No! Io! Anche io! Non hanno afferrato il concetto! La montagna è di tutti! Andiamo! Fermo! È la mia montagna! È mia! Serpenti sibilanti! Muscoli del supercieto! Fantano lupastico! Una tana perfetta! Io dormo sopra! Beh, sulla roccia di sopra! Ci accamperemo qui! Eviteremo che qualcuno possa salire! Perché non mettiamo impronte da tutte le parti? Segnare il territorio fa molta paura a tutti! Basta ululare un po'! Per tutti i lupi! C'è uno di noi lì dentro! Uno grande e grosso! Ragazzi, è solo l'eco! È un nome strano per un lupo grande, grosso e cattivo! No! L'eco è solo un suono che rimbalza e torna indietro! L'ho letto in un... Come si chiama? Oh sì! Un libro! Lupastico! La grotta parlante! La grotta olulante! L'alcalena! La minigiastra! L'albero! Secondo voi dobbiamo fermarli o lasciare che si intralcino da soli? Oh, la regina della luna ne sarebbe felice! Chiamate Lunetta regina della luna! Non c'è altro che pelo tra le vostre orecchie! Nessuno può deridere la regina della luna! Lei ci ha dato questo forte magnete! E noi ora ve lo toglieremo! Supergazzo bruta! Potere lupeto! Per favore, fermate questo caso! Molto volentieri! Non vi arrendete! Seguite il mio piano! E quale sarebbe? Ve lo spiego subito! I lupetti sono un po' tonti! È probabile che ripeteranno lo stesso attacco! Ecco perché... Ora mi propongo come esca! Adesso! È stato fantastico! Dovremmo farlo tutti insieme! Potere lunare dei lupi! Potere lunare dei lupi! Pijarobot! Invia subito il guppaliante! Ma che stanno facendo? Il mio piano! Salta lupetto magnetico! Questo era imprevedibile! Invece l'ho previsto! Salite! Lunetta non avrebbe mai utilizzato il suo lunamagnete in quel modo! Bisogna pensare come i lupetti! E cos'è che ogni lupetto desidera? E dopo potrò conquistare il mondo! Niente super pigiamini! No, se non troviamo un modo per fermarlo! E che vorresti fare esattamente se ogni volta ti rimando indietro? Addio, pigiapesti! Così non vale, Romeo! Forza! Torniamo indietro e sconfeggiamolo! Questo ti ha già messi nei guai la prima volta! Perché hai tutta questa fretta? Sì, non abbiamo un piano! Sei partito all'attacco e ora siamo finiti al punto di partenza! Dobbiamo restare uniti! Romeo stava per fare del male a quel gatto! Dovevo fare qualcosa! Ora andiamo! Sta fermo dove sei, Romeo! Di nuovo voi? Robot, butta via la spazzatura! Nessuno butta via i miei amici! Aspetta, Gatto Boy! Gatto Boy, fermati! Super gatto, velocità! Funziona, telecomando! Che hai combinato? Non era questo che intendevo con restare uniti! È tempo di rispedirvi indietro da dove siete venuti, pigiapesti! Beh, ancora qualche piccola modifica e il mio raggio riavvolgitore sarà finito! Proprio come voi, super pigiamini! Ancora un tentativo, ragazzi! Vedrete! Questa volta ce la faremo! No, essere frettolosi non aiuta! Dobbiamo trovare un altro modo per affrontare Romeo! Gufetta ha ragione! In fondo non sappiamo ancora niente di questo raggio riavvolgitore! Non c'è tempo! Se complete il marchi ingegno saremo davvero nei guai! Andiamo! Che strano! Non hanno toccato lo shuttle! Andiamo a dare un'occhiata! Per tutti i rettili! Guardate chi c'è! Sì, molto divertente! Fateci scendere, forza! Perché? Non è bello stare lassù? Io direi di lasciarli così! No! Ehi, ma si può sapere come siete finiti lassù? È tutta colpa sua! Le sue falene mi hanno rubato le palle appiccicose! E i suoi mini ninja mi hanno rubato il lunamagnete e il lunabord! Hanno organizzato una rivolta contro di noi! È normale, visto il modo in cui li insultate e li maltrattate! Mi sembra come un film! La vendetta dei ninja falene! Ora però fateci scendere, va bene! Oh no! Sono tornati! Presto, fateci scendere! Ma non ci metteremo certo ad aiutarli, vero? Quei due sono i cattivi? L'avete dimenticato? Avanti, Gekko! Siamo eroi! Aiutiamo sempre chi è in difficoltà! I ninja falene fanno sul serio! Attenti! Tranquilli ragazzi, ci penso io! Muscoli da Super Gekko! Super Pigiamini, noi siamo ancora qui! Sì, giusto! Bisogna farli scendere! La situazione è pericolosa! Ali da Super Gopetta! Super Gatto Velocità! Ecco, siete salvi? Contenti? No! Quegli infidi ribelli hanno ancora le nostre cose! Se sono vostre, allora andate a riprendervele! Stai scherzando? Ma non hai visto quanti sono? Grazie a questi dispositivi, i carri si trasformano in robot diabolici, controllati solo dalla mia mente! I miei nuovi robot carri domineranno le strade e spaventeranno tutti! Nessuno oserà più uscire di casa, così io conquisterò il mondo! Mentre io solcherò gli oceani! Come un vero ninja pirata! Ninja che? Ho sempre sognato di diventare un lupo di mare che semina razzie ninja e malvagità piratesche viaggiando attraverso i sette mari! Ma che figura farei se soffrissi di mal di mare e diventassi verde dalla nausea? È per questo che voglio questa barca su sei ruote! Il suo nome sarà la Jolly Ninja! Lo smetti di blatterare e vai avanti con il lavoro! Occupati del piano di cui mi hai parlato! Ah, sì! Anzi... Oh, oh, oh! Mini Ninja! Prendete il possesso degli altri carri! Veloci, portiamoli via prima che trasformino anche questi! Prendete il possesso degli altri carri! Mettiamoli in cerchio! Combatteremo come l'ultima volta! Insieme! Il luna magnate è davvero incredibile! Andiamo! Ehi! Fermati! Il robot vince! No! Sì! E ora come esco da qui? Finalmente! Cerchi di scappare, eh? Ora vedrai da che parte stanno i tuoi amici! Super pigiamini! Super pigiamini! Ha trovato Romeo! Laggiù! Gatto boy Geku! Sono io! Quello lì è Romeo! È un travestimento! No! È lui! Romeo è un vero genio del male! Ovviamente ha avuto l'idea di travestirsi da me! Se sei gufetta, perché eri nel laboratorio? Infatti! Per tutti i baffi felini! È davvero un travestimento convincente! Ragazzi, credetemi sono io! Attenti! Fermali! Ci ha salvati! È lei la vera gufetta! Romeo non l'avrebbe mai fatto! Il mio piano ha funzionato! Biglietto di sola andata... Per la luna! Cosa? Non tornerete mai più! Niente malvagi, niente eroi! Finalmente conquisterò il mondo! No! È incredibile che ci abbia ingannati con quel travestimento! E siamo stati così cattivi! Non è tardi per essere eroi! Hai ragione! Che cosa farebbe la bella setta? Che farebbe gufetta? Robot! Ho sfruttato tutto il mio genio per renderli estremamente deliziosi! Ma c'è un piccolo effetto collaterale! Beh, a dire il vero, gigantesco! Che cosa hai in mente, Romeo? Ho intenzione di far mangiare i miei croccantini ad ogni animale domestico della città! Avrò la mia armata di animali giganteschi per conquistare il mondo! Non riuscirai mai a farlo! Questo lo dite sempre! Guardate qui! Ora seduto, lucertosauro! Padrone, in laboratorio! Ti prego, non dirmi che li ho lasciati nel laboratorio! Ah-ah! Eccoli qui! Croccantini rimpicciolenti! Sì! Vieni a giocare, Lionel! Non ci contare, lucertolina! Aspettate! È di nuovo un mostro super spaventoso! Goffetta! Prendi i croccantini rimpicciolenti! Ora lo fermeremo! Andiamo, Giacco! Super gatto! Fermi! Ma quello non è un mostro! È Lionel! È il mio amico! Non più! Guarda che razza di zanne! Fatemi parlare con lui, posso risolvere tutto! Dov'è il mio piccolo Lionel Lou? Visto! Mi riconosce! Adesso vuole solo distruggere tutto! No! Vuole solo giocare con noi! Goffetta, attenta! Ali da Super Goffetta! Muscoli da Super Giacco! Bella presa! Ok! Super Gatto Velocità! Lo prendo! Muscoli da Super Giacco! Visto? Ah, ecco! Mi serve qualche suddito fedele che mi veneri! Beh, utilizza quella bacchetta e fa comparire i tuoi sudditi! No, non funziona così, palla di pelo! Immagina se tutti quelli che conoscete e amate fossero forzati a diventare qui sulla luna miei sudditi per l'eternità! Non ci contare! Ah, sì? E chi è che mi fermerà? Tutti noi! Davvero? E allora buona fortuna! Psss! Sono qui! Non vi preoccupate! Vi faccio uscire da lì in un attimo! Super Giacco Mimetismo! Sta attento, Giacco! Ehi! Chi va là? Allontanati, Giacco! Oh, oh! Oh, beh! Guarda un po' chi c'è! Oh, che meraviglia! Presto potrò mettere in mostra la mia raccolta di super pigiamini in questa mia splendida fortezza! Spero che la tua nuova casa ti piaccia, Giacco! Aspetta! Come sarebbe a dire? È molto semplice! Tu e i tuoi amici sarete mostrati ai miei fedeli sudditi come il mio più grande premio! Fedeli sudditi? Lasciamo perdere! Ora? Fermo lì, lucertolina! Oh, no! Non mi lascerò catturare! Lo vedremo! Corri, Giacco, scappa! Giacco, che stai facendo? Dov'è il mini robot? Qui, con i colori dei pigiamasks! Gli piace stare qui! Ha guardato altre foto, controllato i nostri velivoli, esplorato il quartier generale... Esplorato il quartier generale! E se Romeo dovesse tornare a controllarlo? No! L'abbiamo noi, il suo telecomando! Ne ha costruito un altro! È molto più grande! Ma lui vuole stare con noi! Quando quell'aggeggio sarà attivo, non potrà più scegliere! Dovrà obbedire ai comandi di Romeo, che gli ordinerà di distruggere la nostra base! Distruggere la nostra base? Se vogliamo tenerlo con noi, dobbiamo evitare che quel telecomando funzioni! Ma se Romeo riuscisse a telecomandarlo, noi contrasteremo i suoi comandi con questo! Cioè un telecomando contro l'altro? Beh, meglio di niente! Andiamo! Ok, ma... Sì, lo so! È bella la gattomobile! Credo che ci convenga prendere in squadra Pijarobot! Secondo te, Romeo riuscirà a telecomandarlo? Spero di no! Ma dobbiamo assicurarci che Pijarobot rimanga uno dei nostri! Jackie guiccianti! È enorme! Resta qui, piccolo! Bene! Allora, Gattoboy, tu con la tua gattovelocità... Oh, no! È attivo! Caffer... Telecomandare qualcosa? No! Ho soltanto generato un buon vecchio campo di forze! Ma... Ti abbiamo sentito dire che... Un super telecomando per robot! Sì, fa parte del piano, come il mio mini robot! Che è così carino e adorabile! Sapevo che l'avreste voluto con voi, e così... Ho costruito un finto telecomando che mi è servito soltanto per ingannarvi! Super Pijamini! Super Presarettile! Ma che succede? Pijarobot! I'm going to run over! Oh! Huh? Oh! Agile come una pantara è più veloce di una... lumaca? Gatto boigieco, che ci succede? Fantastico! I pigiamini senza poteri il che significa che posso fare e prendere tutto ciò che voglio Bisogna tornare al quartier generale Seguiteli! Mentre voi prendete tutti gli edifici Voglio tutta la città! Pidgey Robot mi ha chiamata ha fatto qualcosa con l'archivio delle foto C'era una specie di enorme cristallo Cristallo? Mai visto niente del genere Forse è per questo che abbiamo perso i poteri per qualcosa che... Ho combinato Pidgey Robot Forse non è ancora pronto per diventare un super pigiamino Ma che cosa state aspettando? Prendeteli! Non possiamo entrare! Non abbiamo i poteri! Le porte non si aprono! Pidgey Robot! Aspetta, Gatto Boy Ha provato a chiamarmi, ricordi? Qualsiasi cosa abbia combinato era soltanto per aiutarci Ne sei convinta? Squadra di mini ninja Siete pronti? Pronti a fare cosa? Pronti per la partita finale per la quale ci siamo allenati finora! Spiaccicare il vostro quartier generale e bloccarlo per sempre! Oh no! Hanno preso la gatto mobile! È il momento dell'eroe! Gatto Boy! Con la tua super velocità ferma i mini ninja sulla strada mentre Gekko raggiungerà il quartier generale Spassiamo via questa spazzatura! Gekko! Usa la super forza per deviare le palle appiccicose! Ricevuto! Muscoli da super Gekko! Non restate lì fermi come tanti bambolotti babèi! Se non riuscite a passare dal cancello Passate oltre il cancello! Gatto Boy! Presto in difesa! Gekko! Utilizza il mimetismo! Ma al destri citrulli! Ci penso io! E con un bel tiro porti al generale addio! Pensaci tu, Gekko! È finita! Benvenuti, miei pelosi amici! Ma prima permettetemi di presentarvi la mia incredibile macchina trasforma pupazzi! sono proprio intelligente! Sì! 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 padrone! Salve, salve! Sono il tuo pupazzo! Voglio dire, inverti! Inverti! Questo non è mai successo, è chiaro? Ora, dove ero rimasto? Oh, sì! Oh, 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 oh! Sono proprio intelligente! Ecco perché sta rubando i pupazzi di tutta la città! Li trasformerà in pupazzi parlanti di Romeo! Oh, no! Che cosa hai detto, Gatto Boy? Eh, dicevo che dobbiamo nasconderci dietro il laboratorio e prenderlo di sorpresa! Buona idea! Dobbiamo fermarlo subito! Andiamo! Che cosa c'è? Oh! No! Salve, salve, Pijamas! Prezzo! No! Il signor Miao, no! Eh? Questo è il nome che io gli darei se fosse mio! Cosa che ovviamente non è! Oh! Quindi non ti dispiacerà se lo trasformi in qualcosa di più carino! No! Oh! Oh!